Ciao ragazzi, bentornati alle nostre video lezioni. Quella di oggi sarà molto breve, vorrei farvi vedere due architetture dell'arte romana. Brevissimo riassunto, ovviamente come al solito tenete conto che le specificità dell'arte romana sono date da quella serie di valori che noi abbiamo racchiuso sotto l'ombrello e sotto il nome di Romanitas. Quattro valori fondamentali. Il rispetto del capofamiglia, del pater familias, famiglia intesa nel senso più allargato del termine, no? Il rispetto degli antenati, il culto delle tradizioni e l'idea che tutto quello che si fa deve essere utile per la collettività, per tutta la società. Da questi quattro valori, uniti ai modelli che vengono presi e importati dall'arte e dall'architettura greca, esce fuori quella che è l'arte romana nel suo senso più puro. E vi avevo detto che a seconda di questi valori vengono fuori una serie di produzioni che noi poi possiamo andare a vedere nella loro specificità, scusate, romana. E quindi avevamo parlato dei ritratti. I ritratti li abbiamo già visti in Grecia, in età ellenistica. Vengono presi e portati con i valori romani durante il periodo, appunto, romano. E quindi perché si fa il ritratto di una persona durante tutta l'epoca romana e in Grecia lo si fa solo nel periodo ellenistico? Perché in Grecia nel periodo ellenistico non sono più valori greci veri e propri, ma è l'esaltazione anche del sovrano del regno ellenistico, quindi dei regni fondati da Alessandro Magno. Mentre a Roma il culto, ecco, del capo famiglia, del pater familias, l'idea di utile per la collettività e il rispetto degli antenati fanno sì che si vogliano ricordare le persone importanti, da una parte per la propria famiglia, dall'altra perché queste persone che si vogliono ricordare hanno fatto qualcosa di utile per tutta la collettività. Ecco, questo è l'idea fondamentale. Ma ecco, l'utile per la collettività dà anche il via a quello che per il primo periodo, e poi sarà anche una caratteristica di tutta l'arte romana, al genio romano. I romani sono veramente se stessi e campioni nel campo dell'ingegneria e dell'architettura. Ora, non avremo il tempo di entrare nello specifico in tutte le opere ingegneristiche e architettoniche, ma pensate gli acquedotti romani che ancora oggi sono in funzione, sono dei lunghissimi corridoi che portano acqua per decine e decine di chilometri a volte, e quindi, e ancora oggi sono in piedi, ancora oggi vengono utilizzate strutture romane. Pensate ai concerti che vengono fatti tutti gli anni all'Arena di Verona. L'Arena di Verona è un anfiteatro romano, ancora oggi utilizzato e ancora oggi in piedi. Sono tantissime le costruzioni romane ancora oggi in piedi, anche perché i romani hanno saputo portare e sviluppare due grandi novità. Uno, l'uso dell'arco, e ne abbiamo viste le caratteristiche, no? L'arco rispetto al sistema architravato, scarica il peso in diagonale e quindi dà la possibilità di coprire spazi maggiori, sì, spazi più larghi. Se nel sistema architravato lo spazio tra le due colonne, tra i piedriti, doveva essere ridotto perché il peso in verticale rischia di spaccare l'architrave, nel sistema archivoltato il peso andando in diagonale permette anche di coprire uno spazio maggiore, più largo. Seconda grande novità del sistema costruttivo romano è il materiale da costruzione. I romani emettono appunto il cosiddetto calcestruzzo, una sorta di cemento per intendersi, non un cemento armato che è pieno di metallo, ma un cemento sabbioso che è molto leggero, molto resistente, quindi ancora una volta permette di coprire spazi grandissimi. Grazie a questo i romani riescono a costruire tantissimo, a costruire strutture solidissime. E infatti lo si dice tutt'oggi, Roma è sempre in piedi quando ci sono delle calamità, gli edifici che crollano generalmente sono gli edifici moderni, contemporanei, perché non sono realizzati con quella sapienza tecnica che hanno saputo mettere in atto i romani. Ma veniamo subito nello specifico perché questa lezione deve essere breve. Il primo edificio che vi voglio far conoscere è un edificio celeberrimo, tutte e due sono famosi e tutte e due si trovano a Roma. Mi faccio piccolo e ve lo faccio vedere. Eccoci, penso che molti di voi lo conoscano, se siete stati a Roma sicuramente ci siete passati davanti perché sta in centro e ovviamente è una tappa fissa da vedere. È stato protagonista di alcuni film, l'ultimo che mi viene in mente per esempio è Angeli e demoni di Dan Brown, il film con Tom Hanks. I protagonisti vanno nel Pantheon, questo è l'edificio di cui stiamo trattando, vanno nel Pantheon per andare a cercare la tomba di Raffaello Sanzio, che è sepolto qua dentro ma lo scoprirete solo quando sarete in terza. Pantheon, cosa significa? Allora, vedendolo da un primo sguardo capiamo esattamente di cosa si tratta. È un tempio, Pantheon significa tempio di tutti gli dèi, quindi è un tempio un po' particolare. In Grecia non abbiamo visto templi dedicati a tutti gli dèi, ma a singole divinità. Ecco, questo tempio è stato costruito e ricostruito. La prima costruzione avviene in età augustea, quindi sotto il principato di Augusto, siamo nel primo secolo avanti Cristo, e il finanziatore, quello che paga per far costruire questo tempio, è, lo vedete scritto qui, Agrippa. Agrippa è un familiare proprio di Augusto, credo che sia genero di Augusto, quindi ha sposato la figlia. In ogni caso, così come lo vediamo oggi, il Pantheon è frutto di una ricostruzione nel secondo secolo dopo Cristo sotto l'imperatore Adriano, che era un amante della cultura classica greca e l'aveva fatta ritornare in auge. Ma vediamo un po' come si doveva presentare il Pantheon in questa maniera. Allora, vedete, torno un attimo indietro. Oggi la strada è più alta rispetto all'ingresso, ma come tutti i templi, il Pantheon appoggiava su un basamento e per entrare dentro bisognava passare attraverso degli scalini, bisognava montare degli scalini. E qui vi metto la ricostruzione di come si presenta. Vedete, la parte che sembra più un tempio greco non è altro che il pronao, quindi l'ingresso al tempio. Il tempio vero e proprio è circolare, questo qua dietro. Quindi il pronao ha la forma di un tempio greco, otto colonne corinzie sul fronte, scusate, reggono il frontone e altre colonne creano poi il pronao e lo vediamo in pianta. Questa è sempre la ricostruzione. Quello che vi dicevo prima, il fatto che ci fossero i gradini e la strada fosse più bassa faceva sì che quest'alta facciata a mo' di tempio greco nascondesse questa cupola dietro. E infatti vi faccio vedere una foto da un'altezza ribassata, ecco questo doveva essere il punto di vista. Quindi era anche un edificio scenografico, cioè se da fuori richiamava i templi greci e ci si aspettava di entrare dentro un tempio a forma greca, dentro invece eravamo in questo tempio a pianta circolare. Ed ecco la pianta, quindi noi si entra, abbiamo le otto colonne davanti e vedete il pronao è formato in maniera che ci sono altre colonne dietro che formano tre corridoi, tre cosiddette navate. L'ingresso è solo nella parte principale, mentre su questi due lati vedete ci sono due nicchie dentro le quali c'erano due statue. Si entra dentro e siamo in una zona vedete in un tempio a forma circolare. Circolare di fronte a noi c'è un'abside e altre esedre, sei per la precisione, si aprono, sono questi spazi bianchi, vedete, si aprono sui due fianchi e sono esedre a pianta semicircolare o a pianta rettangolare. Dentro queste esedre c'erano le statue ovviamente di tutti gli dèi. Quando si legge una pianta, mi raccomando, le parti totalmente nere sono le parti portanti, le parti in muratura. I cerchietti ovviamente sono le colonne, non c'è bisogno di dirlo. All'interno si presenta in questa maniera, ancora oggi è conservato sostanzialmente nella forma in cui si presentava dopo la ricostruzione dell'imperatore Adriano. Perché? Perché con l'avvento del cristianesimo questo tempio è stato convertito in chiesa, quindi è bastato togliere le statue delle divinità antiche ed è stato possibile utilizzarlo come tempio cristiano, come chiesa. Quindi si è aggiunto un altare e si svolgono le messe all'interno. Per cui vedete questo enorme spazio circolare ma ricchissimo. Il pavimento è realizzato con intarsi marmorei di tanti colori che danno tante forme. Lo stesso vale per le colonne che sono di materiali differenti e queste specchiature marmorei, quindi questi pannelli marmorei, continuano fino all'imposta della cupola. Cupola che vedete è realizzata con questi cinque ordini di cassettoni, vedete uno, due, tre, quattro, cinque, cinque ordini significa cinque file che vanno a restringersi man mano che si va verso l'alto. Perché? Perché l'effetto, restringendo, l'effetto ottico è quello di slancio verso l'altezza. Ok? Vi faccio vedere alcune immagini di questo ricchissimo pavimento centrale, ok? E la sezione trasversale. Qual è la particolarità del Pantheon che lo rende meraviglioso? Allora, questa enorme cupola realizzata in calcestruzzo è la più grande mai costruita ed è costruita secondo dei principi geometrici perfetti di proporzione, armonia ed equilibrio, quindi i principi che sono propri dell'arte greca, per cui il diametro della cupola, quindi la sua massima larghezza, corrisponde anche alla sua massima altezza. E lo vedete qui, il diametro corrisponde alla sua massima altezza. E questo fa sì che tutto l'edificio, tutta la sfera, cioè che tutto risulti come una sfera contenuta dentro un cubo, ok? È perfetto, è meraviglioso. Se non ci siete mai entrati vi invito a farlo perché è veramente una scena mozzafiato. E quello che vi invito a vedere è la grande novità anche della costruzione romana, l'invenzione della cupola, l'utilizzo della cupola e il suo sviluppo, che come l'arco, vedete, sposta il peso in diagonale e allora vedete che la cupola arriva qua, si imposta qua e quindi andando in diagonale, vedete che questa parte è il rinforzo per la spinta diagonale, da una parte e dall'altra. Ovviamente poi essendo costruita in calcestruzzo è fatta in maniera che, vedete, si va a restringere man mano che si sale e quindi è sempre più leggera. L'occhio centrale, l'oculo, avete visto che è aperto il pantheon all'interno, è un espediente tecnico. Tutte le cupole non possono essere chiuse perché se si chiudono, io non sono un architetto e ovviamente non mi interessa che voi abbiate nozioni da architetto, però se si chiudono la cupola non riesce a reggersi e implode e allora viene lasciato questo buco centrale e non vengono mai chiuse. Voi mi chiederete, ma le cupole delle chiese che noi conosciamo sono tutte coperte, ok? Prendo un libro per farvi vedere, non ho messo l'immagine e sono stato bischero da questo punto di vista, ma la cupola, una delle cupole più famose che conosciamo, per esempio, è la cupola del Duomo di Firenze, no? Mi faccio grande per farvela vedere. È la cupola del Duomo di Firenze che, diciamo così, dopo il pantheon, dopo 1400 anni dopo il pantheon, raggiunge lo stesso diametro, un diametro di 43 metri quasi e voi mi direte, è chiusa? No! Guardatela bene, c'è un oculo aperto e sopra quest'oculo è stato impostato questo elemento che si chiama lanterna che va a chiudere la... che va a creare una copertura, però se voi avete la possibilità di salire sopra la cupola di Brunelleschi, vi faccio vedere anche la sezione, vedrete che c'è un oculo centrale, questa lanterna, questa sorta di tempietto, appoggia qua sull'estremità dell'oculo e va a chiudere. E allora magari, ora mi rifaccio piccolo, mi chiederete perché è rimasto aperto, perché i romani hanno deciso di lasciare aperto questo oculo? Beh, perché esattamente come vi avevo detto per lo gnomone nella piazza dove era stato innalzata, dove era stata innalzata la rapacis, no? La cui ombra andava a colpire l'ingresso il giorno del compreanno di Augusto per, come si dice così, esaltare la pace portata da Augusto, anche nel Pantheon il sole entra, vedete, crea un fascio di luce. Questo fascio di luce ogni 21 aprile di tutti gli anni entra con questa inclinazione e va a colpire l'ingresso. Tutti gli anni. Vedete? Questo è il fascio di luce che entra e va a colpire l'ingresso. Perché proprio il 21 aprile? L'abbiamo detto l'altro giorno. Il 21 aprile è il giorno in cui la leggenda dice sia stata fondata Roma. Roma è stata fondata il 21 aprile 753 avanti Cristo e ogni 21 aprile la luce va a colpire l'ingresso e crea questo effetto scenografico. Ogni 21 aprile l'imperatore entrava dentro il Pantheon durante la cerimonia di celebrazione del Capodanno Romano e probabilmente io mi immagino i vestiti che doveva portare tutti i paramenti di questa processione dovevano creare un effetto scenografico spettacolare. Ecco vi ho messo anche una piccola mappa concettuale per riassumere tutto quello che vi ho detto. Il secondo edificio che vorrei farvi conoscere si trova sempre nel centro di Roma e ve lo faccio vedere dall'alto tramite Google Maps è questo il Colosseo. Cos'è il Colosseo? Eccolo. Il Colosseo o anfiteatro Flavio è un edificio che serve per gli spettacoli pubblici esattamente come oggi noi abbiamo gli stadi di calcio e gli edifici sportivi in genere i romani si divertivano in tutta una serie di edifici. Uno di questi era l'anfiteatro. Anfiteatro significa doppio teatro. Un teatro romano è fatto, è greco ovviamente, è fatto a metà di un semicerchio. Anfiteatro vuol dire doppio teatro quindi viene raddoppiato e è un'ellisse. Il Colosseo oggi è in queste condizioni non perché si sia deteriorato ma perché dopo la caduta dell'impero romano i cittadini della città di Roma andavano al Colosseo a prendere le pietre per costruire altri edifici. Piuttosto che andare in cava e cavare delle pietre nuove e prendevano quelle che già c'erano nel Colosseo. Fino a che nel Rinascimento un Papa decise di bloccare il tutto. Vedete, il Colosseo era enorme quando era costruito e conteneva fino a 50.000 spettatori, fino a 50.000 persone esattamente come uno stadio di calcio e addirittura era costruito con un sistema che permetteva per esempio di allagare l'arena, vedete la parte centrale, e poter fare dei giochi d'acqua, delle battaglie, delle vere e proprie battaglie navali. Colosseo è stato costruito sempre nel primo secolo dopo Cristo sotto la dinastia dei Flavi, per questo si chiama anche Anfiteatro Flavio. E vedete ancora una volta le novità dell'architettura romana vengono utilizzate per costruire un edificio monumentale e quindi l'arco, vedete, è tutto realizzato sul sistema degli archi sia sull'esterno che nell'interno, archi che reggono, vedete, tutta la struttura, e ovviamente il calcestruzzo che noi oggi non vediamo, ma che c'era. Ora, ha quattro ordini sovrapposti il Colosseo, vedete, uno, due, tre, i primi tre ordini hanno degli archi, il quarto ordine è in muratura con delle semplici finestre. Questi archi, vedete, sono inframezzati da colonne addossate al muro e queste colonne, vedete il sistema degli archi e dei sostegni, ancora, e queste colonne, vedete, sono tre ordini, sono messe in maniera che omaggino gli ordini architettonici greci e quindi dal più antico al più recente, Dorico, Ionico e Corinzio, vedete, le colonne sono fatte in questa maniera, con l'unica differenza che l'ordine Dorico del piano terreno è sostituito con l'ordine Tuscanico che comunque è un ordine che richiama il Dorico. Vedete? Tuscanico, Ionico, Corinzio, c'è scritto Corinzio anche qua alla fine perché nel sistema, vedete, murario, ci sono delle lesene con i capitelli Corinzi. Punto, non volevo perderci troppo tempo, fondamentalmente perché ho visto che il vostro libro gli dedica veramente un piccolo paragrafo, ma mi interessava farvelo vedere perché non si può parlare dell'arte romana senza parlare del Colosseo. Vi auguro una buona giornata, spero sia stato tutto chiaro, quindi ricordatevi le grandi novità della costruzione dell'edilizia romana, l'utilizzo dell'arco e l'utilizzo del carcestruzzo, quando dico arco ovviamente intendo anche volta e cupola, che hanno permesso di creare edifici e strutture che ancora oggi stanno in piedi. Abbiamo visto solo due architetture, il Panteo nel Tempio di tutti gli dèi, che è un tempio che dall'esterno richiama il Tempio Greco, quindi otto colonne che sorreggono un frontone, quando si entra nell'interno ci rendiamo conto che ci troviamo in un edificio a pianta circolare che è sorretto da un'enorme cupola di oltre 43 metri di diametro, quindi 43 metri in altezza, 43 metri in larghezza. Il Panteo rispetta i principi di proporzione, armonia e equilibrio. Il secondo edificio che abbiamo visto è un edificio ludico, quindi un edificio per i divertimenti, l'Anfiteatro Flavio o Colosseo, si chiama così perché era stato costruito nei pressi di una colossale statua dell'imperatore Nerone, quindi Colosseo perché si trova vicino al Colosso, o Anfiteatro Flavio perché è l'Anfiteatro fatto dalla Gens Flavia, dalla dinastia degli imperatori Flavi. Tutti questi elementi, cioè tutte queste architetture, sia il Panteon che il Colosseo, stanno in piedi e reggono la propria monumentalità attraverso l'uso dell'arco e del calcestruzzo, ok? Detto questo vi saluto, vi auguro un buon lavoro e ne parliamo prossimamente. Ciao a tutti!